Dov'è il direttore? Alessandro, dove sei? Dove sei? Non ci metti galera? Sì, capito! Sì, capito! Sì, capito! Senti, visto che siete spettacolari il corpo di ballo del testo, facciamo il treno, facciamo il treno, quindi potete fare il 740 che abbiamo fatto prima, bello tirato, potete fare il treno dappertutto. Dovete darci una mano voi, perché dovete far così con noi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!